Quattro walkie-talkie donati al reparto di rianimazione del Cardarelli di Campobasso daranno un contributo in termini di rapidità e quindi di efficienza alla comunicazione tra gli operatori all'interno del reparto. Artefice dell'iniziativa solidale Zona Rossa Web TV, la tv social di Cerro al Volturno aperta nel corso dei mesi più critici dell'emergenza pandemica. In realtà la donazione resa possibile soprattutto dalle offerte dei molisani raccolte nel corso del May Day 2021, la due giorni di eventi online tenutasi ad inizio maggio all'insegna di musica, arte e appunto valori di comunanza e solidarietà. All'interno di questa scatola che vedete qui in video sono presenti due coppie di walkie-talkie che saranno donati appunto grazie alla benevolenza e al volere essere protagonisti dei molisani e serviranno appunto agli operatori del reparto di rianimazione per comunicare tra di loro e quindi di conseguenza non dover più entrare ed uscire soprattutto in questo momento di pandemia e di emergenza sanitaria. Il May Day nasce nel 2012 con l'intento di sensibilizzare le persone attraverso la musica a donare e ad avere un ruolo fondamentale nella solidarietà e nel volontariato. Ma non finisce qui, Zona Rossa Web TV sarà protagonista di analoga iniziativa solidale domani presso il reparto di rianimazione del Santimotio di Termoli.